Quello che si respirava questa mattina presso l'ex Iris Bus in Valle Ufita era un clima quasi di festa perché il nuovo patron dello stabilimento, Stefano Del Rosso, proprietario di Industria Italiana Autobus, ha voluto incontrare, giusto dopo 5 anni da quella tragica chiusura dell'azienda, il 7 luglio 2011, tutti gli operai per tranquillizzarli ancora di più sulle potenzialità della sua azienda e ripartire con loro per quello che sarà un nuovo inizio e non assolutamente un punto di arrivo. Ma ascoltiamo le parole dell'imprenditore Del Rosso e subito dopo quelle del segretario CISL Irpini Asagno, Mario Melchionna. Oggi è il 7 luglio, oggi è un incontro con i miei ragazzi di Flumeri, con gli operai, è una festa di famiglia, non c'è nessun incontro ufficiale, ci saranno anche i sindacati e brinderemo anche con loro. Ma oggi è il 7 luglio, per chi è di quella fabbrica, chi è di Flumeri sa cosa significa questa data. Il 7 luglio 2011 purtroppo è stata dichiarata una tragedia nell'Irpini alla chiusura della fabbrica, il 7 luglio 2016 è presente l'insegna e noi riapriremo. Questa è una festa. I molti però si chiedono quando concretamente ripartirà la produzione. Ripartirà prima possibile, non posso farlo oggi perché spetta ad un piano industriale che presenteremo, l'ennesimo piano industriale vero che presenteremo al Mise, quindi non posso anticipare nulla, però oggi abbiamo in animo di ripartire, visto che gli investimenti li facciamo noi e non ci vengono dati chissà quanti soldi a fondo perduto, quindi abbiamo in animo di ricominciare il prima possibile. C'è la certezza che l'industria italiana autobus nel più breve tempo possibile costruisce autobus in Irpinia e non solo questo. Sicuramente noi siamo fiduciosi che il 7 luglio 2016 possa rappresentare per questa realtà, non solo per i lavoratori ma per l'intera Irpinia, il ritorno alla normalità, perché cinque anni fa la chiusura di quell'azienda ha significato la messa in ginocchio dell'intera economia provinciale, non solo Irpinia ma dell'intera Campania. Speriamo che la strada ormai, la parte difficile è stata fatta, complicata, dove il Ministero, le varie riunioni, gli impegni assunti e poi non mantenuti, tutto l'impegno che ha messo l'imprenditore Stefano Del Rosso, perché per quanto ci riguarda abbiamo sempre avuto un'idea che si trattasse di una persona seria, di una persona competente e la dimostrazione che la sua caparbietà oggi ha portato all'apertura, se anche parziale, di questo stabilimento.